Paradiso, 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 parad tempo di avvento annoci, tempo di attesa e di preghiera, Dio attraverso il profeta Geremia ci promette e ci dona il bene dicendo farò germogliare per Davide un germoglio giusto che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. Amici cari, la giustizia intesa come germoglio che cresce e si sviluppa nel tempo e nella storia personale di ciascuno di noi, intesa come giusto mezzo, equilibrio per giungere alla vera bellezza, cioè la salvezza in Dio. Ma che cosa è giusto? Ecco che lo pregheremo nel Salmo responsoriale quando diremo a te Signore innalzo l'anima mia. Sì, perché la nostra anima ha bisogno di abbellirsi in Dio. Continua, in te confido. Che cosa significa confidare in Dio? Significa indicare la via giusta ai peccatori, cioè essere testimoni credibili della parola di Dio. Ancora guidare i poveri verso la giustizia, cioè ciascuno di noi è chiamato ad essere a capo della speranza che è nel nostro cuore. Tutti nel cuore abbiamo la gioia. Insegna ai poveri la sua via. Attuare comportamenti fondati e radicati sull'amore. San Paolo, nella lettera ai tessalonicesi, lo ribadisce con forza. Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti. Ancora, San Luca nel Vangelo ci mette sull'attenti e dice, state attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Amici cari, che cosa significa non lasciarsi appesantire? Significa non ricercare in maniera esasperata e ossessiva un pugno di lenticchie che non ci dà la salvezza, ma siamo esortati a vegliate in ogni momento, pregando perché abbiate la forza di comparire e di sfuggire. Allora, se vogliamo comparire belli, pieni di giustizia di fronte a Dio, siamo chiamati a pregare quotidianamente. Grazie. Grazie a tutti.